Ciao a tutti e ben ritrovati su Dragon Age Origins Alice con Wynne, Morrigan e Zevran si trova all'interno della magione del Arl di Daenerim per cercare di salvare la regina Anora dalle sue grinfie e possibilmente anche vendicarsi di Arhau Vediamo un po' se ci riusciamo va? Oh, smettila di scherzare, mi conosci? E figuriamoci Watch out, trap there! Un po' se ci riusciamo va? 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 A meno che vostro padre non sia Arimond direi di no Sono Alice, decustode grigi Un po' se ci riusciamo va? Un po' se ci riusciamo va? Un po' se ci riusciamo va a fare la parte di qui Un po' se ci riusciamo a fare la gratitudine Perché Arhau vi torturava? Un po' se ci riusciamo a fare la gratitudine Poveracci... Un po' se ci riusciamo a fare la gratitudine Un po' se ci riusciamo a fare la gratitudine Un po' se ci riusciamo a fare la gratitudine Poveracci... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Perché ti hanno imprigionato qui? Ar Urien è morto mesi fa. Anche il re è morto, il suo posto governa Loghain. Per chi non conoscesse appunto l'origine dell'elfo povero, lui era uno dei protagonisti di quella parte del gioco, ovvero Soris, il fratello del barra del... No, fratello, scusate, che dico, è il cugino del barra della protagonista dell'origine dell'elfo di città. Quindi la storia del matrimonio è legata a quello. Madonna, quante botte, quante botte! Tu non dimenticherai la loro memoria mi ha portato a te. Madonna, quante botte... Madonna... Mamma mia, quante botte... Ma sinceramente il sapere perché ci ha traditi non mi interessa, quindi andrei sull'intimidire perché Elisa è incazzata nera. Conosco il tuo gioco. Nessun imbroglio, nessuna bugia, solo io e te. C'è l'ho, l'ho, l'ho. L'ho, l'ho. L'ho. L'ho, l'ho. L'ho, l'ho che ha notato il successo di ogni successo che mi ha portato. L'ho, sembra che tu abbia fatto qualcosa di te stesso, dopo tutto. Tu padre sarebbe orgoglioso. L'ho, per l'altro, una volta che tu ti dimenti, più di più che mai. L'ho, 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 l'ho. Muori stronzo. Hai ragione, meritavi di soffrire molto di più, brutto stronzo. Certo, io sono una regina di Antifa. Siete il figlio dell'Arl di cui mi ha parlato quell'elfo. L'ho, l'ho, c'è una box di sovranze. Mi libera e il clave è il tuo. Ma... Mi verrebbe da farlo fuori, anche perché avendo giocato l'origine degli elfi è veramente stronzo sto tipo. Ma non è molto da Elis, ma... Io faccio finta di nulla. Denerim è un posto migliore senza di voi. Ops. Ops. Oh, mi ha dato pure 5 XP, non è male. Non riesco a... Ah, caspita. Vabbè, speravo di potergli rubare le chiavi di dosso. Siete bene? Siete bene? Siete bene? Ops. 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 Cosa volete che faccia? Ok, ma perché la porta non si è aperta? Andiamo via finalmente da queste segrete. Grazie a tutti. Due scelte interessanti. Ok, qua possiamo scegliere di denunciare a Nora, di attaccare o arrenderci. A me di norma piace denunciare a Nora, anzi in realtà la prima volta che l'ho fatto ho denunciato a Nora pensando che a Nora mi sostenesse, invece mi ha fregata. E la scusa è stata che lei non poteva esporsi così, bla bla bla, vabbè, lasciamo stare. Però essendo Alice super paragon, essendo comunque di origini nobili, sa che certe cose non si possono risolvere con la violenza e quindi mi arrendo. Ammazzarli rinforzerebbe solo le bugie di Loghain contro di me. Eamon, abbiamo un problema. Oh, bravo. Perché lasciano i prigionieri in mutande non lo capisco, ma vabbè. E' una lunga storia. E lui magicamente si è vestito grazie al mod. Allora, anche qui puoi scegliere di andartene o di attendere aiuto. Tra l'altro, un altro dei motivi per cui io non mi sono portata a Alice dietro a quella missione è che nel caso avrebbero arrestato anche lui, in quanto Grey Warden. Quindi, è carino il fatto che ti arrestino insieme a lui e quindi è carino scappare. Però, pensando alla storia, mi piace di più l'idea di lei accatturata, che attende di essere torturata perché in questa regione torturano, ma è Alistar che la va a salvare in tempo. E' carino questo pezzo perché se scegli che ti salvino i tuoi compagni di squadra, in base alle coppiate che fai, fanno scenette diverse. Ad esempio, se scegli l'Elyana e Morrigan insieme, si travestono da suore di Andraste, da madre venerata di Andraste, piuttosto che il nano e l'elfo fanno cose diverse. Mi piace un sacco Alistar e Sirius, il cane. Nella mia testa, Alistar decide di scappare di nascosto per venirla a salvare, nonostante Arimon dica che è pericoloso e il cane lo segue. Perché comunque, Alistar è la sua padrona. Alistar prova a mentire. Ci pensa Sirius. C'è la sua padrona, è la sua padrona. C'è la sua padrona, è la sua padrona. A quanto pare si sono bevuti la nostra balla, adesso prima di andare avanti mettiamo un attimo i punticini, ma lui ha salito in forza. E poi le prendiamo le punti qua in scudo, che è una passiva, invece lo avrà un sacco, infatti, mamma mia, 45 punti in forza, adesso sgretolera chiunque praticamente. E prende tutto, mi piace, mi piace, gioca. Andiamo avanti, questa porta è loccata. Andiamo un po', esploriamo qua, qui c'è la chiesa. E' la voce della dottoressa Chakwas di Mass Effect. Prova a mentire. Con questo faccino, con questa vocina, chi vuoi che sospetti di lui? Andiamo qua. Ok, ciao, scorre. Qui invece c'è tanta gente, tanta tanta gente. Riusciremo a passare in osservati? Dice molto questa cosa. Vediamo un po' che ci dice qua, sergente Tanna. Proviamo a convincerla. Ma che c'è? La lasciamo stare, direi. Proviamo con la ballista. Oh, dai che ne abbiamo distratti. Corri, 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 corri. Corri, corri, corri. Corri, corri. Corri, corri. 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 e abbiamo salvato la nostra fidanzata ringrazialo ringrazialo è tutto ciò che hai da dirmi dopo che abbiamo anche il poveretto qua grazie a tutti 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 con me mi saluto alla prossima ciao ciao